Ciao e benvenuto sul mio canale YouTube. Io sono Orso e in questo mio piccolo spazio personale cercherò di mostrarti la mia nuova vita in campagna. Sono nato e ho vissuto in città fino a pochi anni fa, quando con la mia famiglia avevamo deciso di cambiare stile di vita. Cosa troverai in questo mio canale? Ti parlo della vita in campagna. Viviamo in armonia con un cane, 16 gatti landagi e 6 gallini novaiole e affrontiamo tutti i problemi connessi a una vita semplice. Ma siamo sicuri che siano davvero problemi? Se inizierai a seguirmi capirai che sono esattamente così come mi vedi, semplice e schietto. Nei miei video troverai pochi fronzoli e spero qualche spunto di riflessione su una vita più sana e da contatto con la natura. Quindi pochi effetti speciali e spero tanta sostanza. Ti ringrazio e ti auguro una buona visione.